Ciao, oggi vediamo QGIS 2.3.js che è praticamente una libreria che ti permette di è un plugin che usa in una libreria che ti permette di esportare il progetto QGIS in formato 3D visibile da browser come vedete sto usando la nuova versione di US Geolive la 8.5 che sembra andare tutto bene ho dovuto fare un aggiornamento ed è sempre come al solito virtualizzata si comporta molto bene ho visto che c'è come novità la nuova versione di GRASS 7 e QGIS 2.6 anche se appena è stata rilasciata la 2.8 in questa versione è stata messa la 2.6 ma va comunque benissimo vediamo subito apriamo QGIS 2.6 e 2.6.1 caricherò dei dati di OpenStreetMap che ho visto in questa versione c'è una nuova città di OpenStreetMap la vediamo subito la carichiamo con con postGIS quindi è già archiviato nel nostro database carichiamo Polygon add e questo è se adesso vediamo dove è più o meno questa città non ho ancora installato il plugin open layer perfetto carico OpenStreetMap per sapere dove siamo più o meno ecco sì c'è il solito problema però è dovuto alla proiezione proiettiamo nel sistema 3.8.5.7 adesso dovrebbe caricarsi sotto tranquillamente ok siamo a Redwood City non so dove sia so che ci sono delle paludi ok Santa Clara San Giuse vediamo qualche dovrebbe essere a sinistra a sinistra sì a ovest dell'America sì sopra ok sopra San Francisco sopra la California quindi rimuoviamo per adesso facciamo ok ritorniamo sullo zoom ecco quello che vi consiglio è non prendete un'area troppo grossa perché dopo più che altro ha problemi il browser a generare lo script javascript poi comunque cercate di andare su un'area piccola e fare delle prove appunto su quest'area piccola prima ho visto che c'era un interessante allora zona però non lo riesco a vedere cosa facciamo allora open state map carica tutti questi layer e vari poligoni incominciamo a tirar fuori solo i building andiamo nelle query e gli diciamo building uguale sample noi dobbiamo cancellare il null e questo qua vuoto quindi per fare il vuoto basta fare così or building invece per il null bisogna mettere is null poi ci mettiamo delle parentesi e ci mettiamo not all'inizio così dovremmo vedere solo i building se andiamo a metterli un colore per categoria building classify facciamo ok almeno abbiamo così dei degli edifici con colori diversi allora prendiamo questa zona così è un po colorata ci sono degli edifici qua con che sembrano delle residenze e poi qua delle attività che magari sono commerciali non bisogna fare molto il plugin funziona molto bene anche se noi adesso esportiamo così questa parte di territorio lui automaticamente fa i clip su questo territorio e così viene alleggerito apriamo il plugin cogis 23gs ci da un paio di informazioni risoluzione risoluzione i controlli che dopo vediamo quali controlli sono questi comunque lui dice che si tiene la R autorotate on off switch upside down e alcuni controlli poi ho visto qua che invece ci sono due tipologie di controlli queste qua sono delle librerie javascript che sicuramente se ne trovano anche parecchie si può sviluppare si può caricare un dem io adesso non ho un dem sotto mano però può creare la morfologia del territorio poi line point non abbiamo caricato niente andiamo su polygon lui dice ok estrudi va bene non abbiamo nessun dem il colore lo prende dallo stile del layer che abbiamo creato se avessimo una colonna dell'altezza potremmo definire l'altezza con la colonna noi mettiamo 15 metri di default per tutti fa il clip delle geometrie e poi vedremo le etichette si può caricare in un file temporaneo oppure io lo metto nella mia cartella var www così posso accedere anche da esterno experiment prova 0 2 entro 3d 1 sala ok non dovrebbe metterci molto lo apro perché funziona meglio il mio browser in locale questo metto sempre in primo piano perfetto vado in 192 non mi ricordo il numero di indirizzi p se vai qua c'è tasto destro informazioni connessione 192 168 1 punto 184 poi 00 experiment 3gis 0 2 3d 1 perfetto ok questo è quello che ha creato adesso funziona bene adesso funziona bene la rotella del mouse e tutto poi comunque questo qua vi permette anche di dire ok io posso andare già online con questo disegno se io schiaccio la rotella lui va avanti se giro la rotella lui va avanti indietro se la schiaccio mi permette di fare uno zoom veloce poi vediamo cosa succede se schiaccio il tasto destro mi fa il pan se schiaccio il tasto sinistro mi fa la rotazione ho visto che mi ha creato questo pannello io posso ad esempio cambiare il colore dello sfondo allargare lo sfondo un po' di più così non vedo il vuoto e anche per i layer planet osm posso fare l'opacità lui sotto mi tiene come se fosse un raster dell'impronta degli edifici posso anche decidere di spegnere o meno il layer di fondo ho visto che c'è se io clicco su un poligono posso avere delle informazioni coordinate e mi dice il layer e niente proviamo a fare qualcosa di più il risultato è molto molto buono ho caricato questi edifici che comunque sono parecchi edifici se si vuole rappresentare un ambito urbano va anche bene un quartiere rappresentare un quartiere di questo genere poi sicuramente questo qua è un file html e si può modificare magari anche fare diverse viste e quant'altro penso che sia molto buono come strumento vediamo di fare qualcosa di più carichiamo anche le linee le strade sempre da postgis connect public osmline add facciamo una categoria per highway che se ricordo questo è open street map quindi ci sono le colonne appunto di open street map mettiamo primary secondary terziari change color facciamo ok però preferisco mettere qualcosa di diverso tipo una linea di questo genere ok salviamo sempre il nostro progetto 3d osm 2 e poi adesso cerchiamo di mettere delle etichette facciamo l'esportazione lui ha visto che ci sono caricate anche le linee non gli diamo altre informazioni se non il clip in planet osm qua sotto c'è export label label mettiamo building qua mettiamo dal top aveva messo 15 facciamo 25 così risulta l'etichetta un po' più alta di 10 metri run over white ok continuo con lo script e già mettere le etichette incomincia a diventare pesante continuo intanto adesso è finito ho caricato tutto sono tantissime le etichette sono tutte yes quindi cerchiamo di stop script cerchiamo di togliere le etichette che hanno yes questo è per quello che vi consiglio di fare queste prove in parti piccole vediamo com'è il processore no il processore devo aspettare un attimo che si ok adesso si è tranquillizzato per togliere le etichette yes ho visto che praticamente su tutti questi edifici c'è yes ma noi facciamo una copia duplicate ok gli diciamo oltre a togliere quelli che sono building senza nome building is null null li mettiamo anche in solo questa cosa building uguale yes facciamo ok e poi andiamo a mettere le etichette solo su questo facciamo co-gistu tree aggiungiamo questo questo gli togliamo le etichette questo gli mettiamo le etichette building altezza sempre 25 qua cerchiamo di stiamo anche più bassi con questi edifici anche tanto non dovrebbero non dovrebbero neanche vedersi l'importante è che si vede l'etichetta overwrite adesso lasciamo un attimo finire questo prima di andare sul nostro locale close tab andiamo sul nostro perfetto ci ha messo le etichette su solo alcuni edifici che probabilmente sono anche quelli più importanti che hanno un'etichettatura e niente questo qua è la prova di questo plugin ha messo anche le strade colorate con la nostra simbologia e funziona veramente bene mi piace come plugin ho provato già a usarlo un paio di volte anche con il dem e giudicate voi è proprio un bellissimo plugin e può permettere di fare molte molte operazioni e anche questa visualizzazione ovviamente si può lavorare molto se ad esempio andiamo su visualizza pagina sorgente vediamo che è tutto html c'è la gui c'è il pannello il controllo c'è questo script js che porta dietro tutti i poligoni sembra un file geogson o qualcosa di questo genere e niente layer 0 layer 1 ottimo veramente veramente un plugin interessante dai ci vediamo presto ciao